La vaccinazione è storia antica insomma, lo facciamo, l'abbiamo fatta, magari l'avrai fatta anche tu durante il servizio militare e poi non c'è un obbligo in realtà. Il discorso dei limiti messi sul lavoro, su altre attività che normalmente abbiamo svolto sono legate ad una epidemia eccezionale, tant'è che non è solo l'Italia che vive questo tipo di atteggiamento ma la gran parte dei paesi nel mondo, no Davide? Non pensi che questo sia di ragionare in questo modo, nel valutare anche quello che ci sta succedendo che è eccezionale, che è effettivamente anche poco sopportabile, la mascherina e tanti altri limiti anche da parte mia ma non per questo penso di essere sotto un regime dittatoriale che mi impone di svendere il mio corpo. Sono anzitutto molto felice proprio della differenza con cui vediamo le cose perché questa è estremamente preziosa ed è quella che dobbiamo conservare ed è il primo strumento di dialogo la differenza. Allora, parto dalla questione che tu hai posto sugli esempi storici allora dobbiamo stare molto attenti a comprendere la prospettiva di diritto nel momento in cui uno Stato mi impone una sperimentazione coatta di un farmaco e di sperimentazioni si tratta anche da un punto di vista tecnico allora noi siamo in un regime in cui cediamo la proprietà giuridica di fatto del nostro corpo nel nome dell'emergenza. Perché tu sostieni che si stia sperimentando il vaccino su di noi in questo momento? Non io lo sostengo, sono proprio tutti i protocolli che sono attuati io non sostengo Ma però lo stai sostenendo adesso? Ma io lo osservo, lo leggo e lo ripeto in questo senso È scritto sui foglietti illustrativi, non è che lo sostengo nessuno di noi lo sostiene, sta scritto c'è scritto che finirà nel 2024 però detto ciò se vuoi lo riprendiamo Però io ribadisco una cosa la mia gratitudine enorme a chi sceglie di sottoporsi a questo farmaco la mia gratitudine enorme perché io sento che noi combattiamo anzitutto per loro, per il loro diritto di sceglierlo e per il nostro diritto di sceglierlo perché nel momento in cui lo Stato da servitore si fa padrone diciamo che oggi questa è acqua distillata non fa nessun male ma nel momento in cui il servitore si è fatto padrone non si torna più indietro e questo è il cambiamento giuridico fondamentale Anche qui una domanda, un'eccezione te la faccio subito intanto sul numero sai che l'85% delle persone hanno scelto di vaccinarsi non hanno bisogno della tutela del 15% di chi non lo fa uno, seconda cosa ma siamo sempre, io non vedo differenze con 10-20 anni fa nel modo in cui i governi hanno gestito la popolazione in cui noi siamo costretti a sopravvivere facendo mille fatiche come 10 anni fa, oggi quindi non è che vedo oggi perché anche chi ragiona come te si sveglia oggi nel cercare di porre un freno a un modo, un metodo di governo che non è giusto e sano per noi è lo stesso di 10-20-30 anni fa o sbaglio? Qui parto dalla mia storia che non è solo mia e riguarda tanti dissidenti politici in questo paese chi volesse andare indietro e ricercare un po' sulla mia storia troverà che queste sono le cose su cui combatto da sempre e che con Marco Pannella abbiamo portato avanti da sempre cioè egli sosteneva che nel momento in cui l'obbligo di farmaco viene riconosciuto dallo Stato allora si apre la strada a un vaccino contro il dissenso e tu mi dici ma è come negli anni scorsi un attimo c'è stato un salto di qualità giuridico fondamentale il Green Pass non è nient'altro che il risultato di questo vaccino contro il dissenso per questo io mi sono unito ai miei compagni radicali nel nome di Marco Pannella e di questa sua memoria nel 1995 quando lo diceva erano 26 anni fa quindi tu dici e come negli anni scorsi continuo insieme a lui vicino a noi con i miei compagni radicali di resistenza radicale a dire che il Green Pass è il vaccino contro il dissenso cioè se tu non obbedisci alle aspettative del governo tu non hai accesso ai diritti fondamentali ti faccio un esempio semplice noi adesso mettiamo da parte l'obbligo siamo stati sottoposti a tortura mediatica e a tortura psicologica e fisica queste sono le parole di Brunetta dice dovremo ficcargli su per il naso fino al cervello gli uomini sono manchevoli ma figurati no no quello è il governo lui è un'istituzione ma è un uomo sì ma lì rappresenta il governo mai smentito dal governo dovremo torturarli sostanzialmente ha detto perché? perché esercitano un diritto quindi il salto di qualità è enorme e tu devi andarti a comprare i diritti in farmacia tu sei malato fino a prova contraria e dunque tu non puoi stare in società fino a che non ti sei prostrato dinanzi a quell'altare del governo che è oggi la farmacia rispettabilissime persone perché poi anche loro si fanno cacciare mi scrivono centinaia di medici radiati e perché? perché centinaia e perché migliaia di medici si fanno cacciare piuttosto che obbedire? veramente sono così tanti? sono tanti e dati ufficiali dicono ad oggi che 40.000 docenti ti parlo dei docenti 40.000 docenti sono in procinto di ricevere la sospensione quanti cederanno non si sa ma 40.000 40.000 però non ti dico non sono 40.000 noi siamo sospesi in 50 milioni di cittadini perché? perché sono sospesi i diritti fondamentali per 50 milioni sono 40.000 quelli che hanno deciso di resistere ma sono centinaia di migliaia quelli che sono stati obbligati a subire un qualcosa perché purtroppo ne andava della loro famiglia perché è vero che molti sono condannati a morire di fame ma in qualche modo probabilmente sopravviveranno te compreso tanti altri magari persone che hanno il dovere di continuare a far sopravvivere anche dei carichi altrimenti non sopravviverebbero è ovvio che sono stati obbligati a farli e mi scrivono piangendo mi scrivono piangendo in lacrime disperate io devo cedere io devo cedere il mio corpo perché ho questi figli da mantenere perché ho questa famiglia da mantenere ma questo è un uomo libero questo è consenso ricordo ancora Pertini è libero un uomo che ha fame è libero di scegliere il vaccino cosa c'entra c'entra perché se viene imposto in cambio della fame in cambio dello stipendio in cambio del posto di lavoro e della dignità del lavoro è chiaro che questo è il salto di qualità che hanno fatto questi nuovi impositori perché di questo stiamo parlando perché prima abbiamo parlato della questione di emergenza caro Francesco se ci fosse un'emergenza potrebbero alcune aziende pochissime nel mondo fare utili di centinaia di miliardi di dollari e di euro è praticamente quasi la stessa cosa perché durante la guerra è accaduto che molti hanno accumulato ricchezze si chiama proprio in casi di emergenza si chiama bottino di guerra che poi viene requisito chiamiamolo come vitale che poi viene requisito e va bene ma questo non è ma non è un'emergenza parli del caso farmaceutico o delle grandi di entrambi di entrambi delle grandi reti online certo di entrambi Francesco sono entrambi hanno ma loro e altri ma perché scusa tu hai visto per caso pensioni d'oro ridotte no hai visto per caso stipendi d'oro milionari ridotti a funzionari pubblici no io non li ho visti ho visto soltanto persone per bene fatte trattenere in casa o addirittura servitori dello Stato al quale è stato tolto lo stipendio solo pur essendo sani e disponibili a dimostrarlo quotidianamente per non essersi per non avere accettato l'imposizione sanitaria un inserimento nel proprio corpo di un qualcosa che non volevano perché avevano deciso hanno deciso di di seguire di accettare di credere a quei medici a quegli scienziati internazionali e nazionali che si pongono dei dubbi questa è la democrazia e poi voglio dire un'altra cosa per 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 aprire il dibattito su questa questione che è parallela ad un'altra l'altra è ma può una civiltà che ha raggiunto un certo grado di 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 civilizzazione proprio di mutualità di democrazia può accettare che per un motivo sanitario si debbano limitare tutte le altre tutte le altri diritti naturali dell'uomo come la libertà come l'unione come come la solidarietà come la vicinanza può accettarlo questo qualcuno ora dall'altra parte potrebbe dire beh sì perché c'è un'emergenza e quindi dobbiamo superarla ma è questo il modo perché se noi accettiamo che questo sia il modo attenzione questo è un passaggio importante ascoltiamo bene poi voglio il parere di Davide per favore allora se noi accettiamo che per un problema sanitario i governi possano imporre da autorità restrizioni alla libertà al lavoro ricatti di questo genere questo apre la porta a un futuro drammatico perché atteso che questa chiamiamola emergenza sanitaria questa malattia che ci sta circondando sia naturale diamo per scontato che sia naturale va bene è naturale noi non lo sappiamo ancora però facciamo finta che sia naturale ma se noi oggi accettiamo questo significa che mettiamo nelle mani dei potenti e dei malvaggi tra i potenti che possono esistere ed esistono la storia ce lo insegna e anche la logica ce lo fa pensare beh gli mettiamo in mano lo strumento per poter governare a vita in eterno perché questo significa che domani finisce questa emergenza ma se ne può generare un'altra perché un virus può essere generato in laboratorio sì lo abbiamo chiesto a tutti gli scienziati e non c'è una sola parola dissonante tutti dicono sì in laboratorio si possono creare e manipolare tant'è che domani parleremo con scienziati e di scienziati che questo stanno pensando sulle ultime varianti che siano state manipolate e messe in circolazione per far concludere questa storia ma questa è una questione che discuteremo domani con chi di dovere però siccome il fatto di manipolare un virus o una malattia è possibile scientificamente tecnicamente la tecnologia oggi lo permette se noi cediamo la sovranità addirittura del nostro corpo del nostro corpo per un'emergenza sanitaria questo significa che domani di emergenze sanitarie se ne possono creare artificialmente quante se ne vogliono e allora non può passare questo principio è un motivo storico filosofico Davide è quello che abbiamo vissuto negli anni 70 quando dicevamo a Cossiga con la KL2S caro Cossiga con la KL2S se tu nel nome dell'emergenza neghi i diritti civili fondamentali i diritti politici ai cittadini allora tu apri la strada a governare in eterno nel nome dell'emergenza senza quei diritti minimi e oggi non possiamo metterci una K su Draghi lo dobbiamo chiamare Draghi ma comunque la situazione è la stessa ovvero nel nome dell'emergenza ma tu vieni privato di diritti fondamentali ma i diritti fondamentali servono a governare le emergenze i diritti fondamentali cioè non erano mica stupidi quelli che hanno fatto la Costituzione cioè tu compri una macchina hai uno strumento la Costituzione tu la compri per andare dal giornalaio davanti a casa no la compri per andare dove è difficile andare lontano gli strumenti sono fatti come la Costituzione per aiutarti a fare le cose difficili allora lo strumento Costituzione è fatto ed è pensato per essere attuato nei momenti difficili cioè la libertà serve quando il momento è difficile non quando come l'educazione diciamo grazie a quello non mi insulta e grazie non ti insulta perché ti vuole bene allora essere educati significa non insultare l'altro che ti vuole male così è la Costituzione uno strumento pensato per i momenti difficili questi la Costituzione l'hanno distrutta l'hanno cancellata facciamo un esempio pratico per tutte le persone che hanno difficoltà a comprendere questo principio Davide facciamo un esempio pratico tu hai detto poco fa i diritti fondamentali servono per gestire e risolvere l'emergenza perché dice che vuol dire che cosa ha detto ve lo spieghiamo facciamo un esempio pratico l'esempio dei pazzi cioè che cosa abbiamo sentito in televisione Montagné è un pazzo Didier Raul è un pazzo De Donno era un pazzo ok sono pazzi tutti adesso è pazzo Cacciari è pazzo Agamben tutti quelli che dissentono da quel pensiero sono pazzi le cure domiciliari sei un pazzo anzi ti radio voglio che tu sia radiato ad amici Bruno Vespa è della radiazione in diretta televisiva chiese la radiazione solo perché guariva le persone perché non era d'accordo su quello che diceva solo per quello non ha fatto nulla di medico di sbagliato forse magari nei comportamenti è un po' sui generis ma come medico aveva fatto tutto quello che doveva fare un medico curare i propri pazienti non ci aveva un morto sulla coscienza delitto d'opinione esatto solo un delitto d'opinione e allora quello è un pazzo quell'altro è un pazzo quell'altro è un pazzo seguite questa strada Draghi ci ripete ancora il vaccino è l'unica soluzione quando in altri paesi sta accadendo il contrario allora ecco a cosa serve la conservazione dei diritti fondamentali per risolvere l'emergenza perché la domanda è ma ci avesse ragione quell'altro ma ci avesse ragione Montagné ma avesse ragione Didier Raul o altri scienziati avesse ragione quello che diceva un'altra cosa ecco se noi fermiamo la possibilità alla scienza di esprimersi con il confronto con la discussione pubblica con il tentativo di altre strade è la morte della scienza morte della scienza morte della democrazia e probabilmente anche del popolo perché noi oggi in Italia vorrei ricordare siamo fra i paesi messi peggio rispetto a quelli che hanno fatto scelte diverse India Gran Bretagna ora anche Sudafrica abbiamo visto la Svezia non ne parliamo quella è a parte ogni tanto da qualche calla come si dice a Roma cioè fa vedere che fa qualcosa ma non è vero ovviamente chi ci vive ce lo racconta ecco ecco a cosa servono i diritti fondamentali quando le cose si fanno difficili servono a mantenere la barra dritta sui diritti e sulla discussione scientifica ecco la Costituzione dove è stata stuprata perché non si è più fatto il dibattito scientifico si è seguita una sola strada imposta dall'autorità che invece deve essere libera dal pensiero scientifico e non dire quei dieci capiscono tutto e gli altri non capiscono un cazzo nessuno è stata stuprata quindi questa è stata